finalmente qualcuno che da un messaggio positivo per stasera ti chiami scusa marco allora pronostico italia uruguay ore 18 2 a 0 per l'italia o deciso e fermo chi segna doppietta del balotelli vai super mario quindi casomai si leva la maglia pure stavolta no speriamo di no alla pietra no speriamo di no vabbè però era simpatica quella cosa si con gli urologaggi ormai magari in finale se ci arriviamo allora se arriva te offro una birra se ci arriviamo ci obbligiamo insieme quindi italia uruguay 2 a 0 chi vince invece il mondiale speriamo l'italia l'italia si quindi l'italia però te l'italiano l'italiano tocca meno male va l'italia è l'italia non si tocca grazie